SIGLA Che cosa risponde a chi sostiene che quanto accaduto discrediti di fatto l'assoluzione di ieri macchina? La vergine assettata di sangue. La fiaba di Veronica e Gianna. Non sai da quanto aspettavo questo momento? Mi vedo con un'ora. Ecco perché sei arrivato in ritardo. È solo per te che sono qui. Cosa vuoi fare adesso? Cioè, hai pensato? Per lei è normale che sua figlia passi la prima notte di libertà in discoteca con la testimone che l'ha scagionata? Forse mi è sfuggito che il nostro sistema giudiziario ha impiegato 22 mesi per decretare la sua innocenza. Mi so, mi puoi spiegare perché ci riprendi? Perché segui la mia amica? E a te che cosa ti è venuto in mente di andare al cimitero con lei? Potevamo andarci insieme, no? Ma non capisci che sei libera di fare quello che vuoi? Ma tu pensi davvero che ci sia qualcuno che mi crede? Sarò sempre quella che ha ucciso sua madre. Seria, se tu non fossi tu mi crederesti? Sì la tua vita. Sì la tua notte. Sì la tua vita.